Radio Coppe 76, benvenuti e bentrovati con la rubrica Parola al Presidente e con Bruna Rossetti che è qui accanto a me, Presidente di Conf Cooperative Viterbo. Bentrovata Bruna, buon anno innanzitutto. Buon anno a tutti, bentrovati. Una rubrica con cui stiamo portando avanti ormai da diverse settimane tutta una serie di aspetti riguardanti proprio la vita di Conf Cooperative a partire appunto da quelle che sono le parole del suo Presidente, il Presidente dell'Unione Provinciale Viterbese. Conf Cooperative ha fatto tantissime cose nell'anno che è appena trascorso, tante altre caratterizzeranno il 2014. Sentiamo appunto da Bruna Rossetti quali sono stati gli aspetti caratterizzanti per la vita dell'Unione Provinciale Viterbese e aspetti caratterizzanti per quanto riguarda il 2013 e poi quelle che saranno le prospettive future. Beh, innanzitutto vorrei dire che è stato un 2013 veramente proficuo. Siamo riusciti ad individuare una serie di progetti che abbiamo portato avanti e quindi in qualche modo l'Unione attraverso il suo ufficio di progettazione si è messa a disposizione e delle cooperative già esistenti e di gruppi di persone che intendevano costituire il loro strumento di attività, quindi la loro cooperativa e ha progettato una serie di attività attraverso le quali sono poi nate alcune imprese cooperative. È bello ed è curioso perché alcune di queste imprese, sapete un po' come funziona la costituzione di una cooperativa, si arriva con un'idea e poi da questa idea si trasforma il tutto in una impresa cooperativa e quindi generalmente i primi incontri sono proprio di approccio rispetto all'idea progettuale, no? Che cosa fare da grandi? E il più delle volte durante il primo incontro avviene la scrematura, cioè magari arriva il giovane piuttosto che la persona più grande che ha intenzione di realizzare un'attività e una volta che è stata stimata, è stato approfondito l'idea embrionale, il progetto embrionale, si stabilisce se è opportuno o no creare una struttura cooperativa e in questo caso è curioso e bizzarro dire che per esempio una delle cooperative che è stata finanziata attraverso un progetto di start-up di impresa realizzata appunto dal centro di progettazione di Conf Cooperative era una di quelle che a priori avevamo scartato dicendo che quell'idea progettuale non avrebbe avuto poi sostenibilità economica. È un momento della nostra economia, un momento in generale ma in particolare della nostra economia nazionale e di quella del territorio dove credo sia veramente difficile stabilire quale sarà l'attività che di fatto funziona e sempre di più mi rendo conto che dobbiamo abbandonare un po' le vecchie idee di ciò che funziona e ciò che non funziona perché di fatto ci sono delle nicchie di mercato che non sono colmate e che il più delle volte vengono proprio da idee di ragazzi giovani che individuano e si collocano su dei piccoli segmenti di mercato che permettono poi di svolgere un'attività. Nel caso specifico durante il corso del 2013 siamo riusciti a portare a casa perché poi in effetti la casa comune è questa e quindi abbiamo portato dentro Conf Cooperative Viterbo una serie di progetti che hanno permesso la costituzione di 4 o 5 cooperative che sono state finanziate nella fase di start-up e quindi si sono costituite proprio sull'onda lunga di questi bandi in particolare abbiamo partecipato ai bandi per l'incentivi e alla creazione di impresa per la promozione dell'occupazione in più fasi di uscita di questo bando e tutte le volte siamo riusciti a rimanere in graduatoria ad essere in graduatoria con tutti i progetti eccetto uno delle idee che ci erano venute in mente quindi tutte le cooperative per le quali abbiamo presentato cooperative o gruppi di persone che intendevano realizzare i loro progetti abbiamo presentato i nostri progetti sono appunto stati finanziati eccetto in una situazione e quindi questo ci ha permesso appunto la creazione di queste nuove imprese che seppur, questo ci tengo abbastanza a precisarlo nel senso che avere una cooperativa finanziata non vuol dire che domani mattina chi ha fatto quel bando e quel progetto si trova in tasca dei soldi caduti dal cielo un bando di finanziamento pubblico che passa attraverso i fondi europei piuttosto che attraverso la regione ha un iter procedurale difficile, tortuoso e soprattutto lungo mi piace quando parlo con qualcuno che ha idea di realizzare qualcosa di progettare qualcosa e quindi di accedere a dei fondi pubblici dire semini oggi per poter forse fra 12-24 mesi avere un minimo di raccolto la strada è in salita non abbiamo la possibilità di dire che da domattina è tutto semplice perché abbiamo uno start up in qualche modo finanziato è però vero che noi dobbiamo partire con la sostenibilità economica di un'attività è per questo che si fa la cosiddetta prima scrematura negli uffici di Conf Viterbo e dopodiché vedere di mettere quel valore aggiunto che può derivare appunto dalla partecipazione ad un bando quindi questo 2013 è stato proficuo da questo punto di vista proprio per la costituzione di queste nuove imprese e per il potenziamento delle attività che altre imprese cooperative avevano già in piedi anche per questo abbiamo partecipato a diversi bandi e tutte le cooperative per le quali sono stati fatti si è partecipati appunto alla realizzazione di progetti sono state tutte finanziate quindi beh che dire un 2013 che ha portato nel nostro piccolo occupazione stabile creazione di posti di lavoro difficoltà nella gestione di queste fasi iniziali piuttosto che delle fasi di implementazione difficoltà che però sono state superate sempre come al solito con la rete interna che si è generata quindi con il supporto delle BCC con il supporto per le polize fidei ussorie da presentare ai relativi enti tipo la regione piuttosto che la comunità per tramite la regione quindi un po' quel discorso di solidarietà il centro servizi che va incontro alla cooperativa neocostituita abbattendo il più possibile i costi di gestione il tutto per poter promuovere un'attività che per i primi mesi per il primo anno può andare in sofferenza ma poi in effetti decolla è un po' l'accompagnamento del nostro bambino cooperativo e quante sono state le cooperative finanziate nel corso del 2013? sono state sette sono state sette cooperative di cui cinque neocostituite e tre invece che erano già costituite che hanno potenziato la loro attività abbiamo poi altre cose in cantiere per le quali stiamo ancora aspettando la pubblicazione degli esiti dei bandi di gara e quanto hanno portato in termini economici sul nostro territorio? hanno portato circa attorno ai 500 mila euro i bandi per i quali già siamo stati ammessi al finanziamento vengono poi tutte le altre graduatorie per le quali siamo ancora in attesa speriamo che il 2013 ancora abbia la sua coda che poi emergerà nel 2014 di possibilità di attivare altri servizi e altri posti di lavoro quindi 500 mila euro che poi di fatto sono il frutto di una progettazione che parte direttamente da conf cooperative sì che è quella progettazione schietta e pura che genera la nuova attività e che genera il nuovo posto di lavoro quindi non è diciamo un po' differisce da quello che può essere per dirti adesso un esempio dei bandi che sono fuori in questo momento il bando INAIL che è sulla sicurezza e quindi diciamo già su attività che le cooperative svolgono che in qualche modo possono essere promosse maggiormente in sicurezza questo è proprio il nuovo quello che noi abbiamo investito nella possibilità di creare nuove attività e sono attività che oggi si reggono con le loro gambe in maniera decente e dignitosa e invece quante sono all'incirca le cooperative che sono state costituite nel corso del 2013 e che si sono iscritte a conf cooperative che ricordiamo conf cooperative è la realtà con il più alto numero di cooperative attive di tutto il centro Italia e sono all'incirca se non sbaglio 130 no? sì sono circa 130 anche se in questo periodo conf cooperative Viterbo sta facendo un'opera diciamo di scrematura anche qua e di fidelizzazione delle cooperative che in effetti sono all'interno del circuito che con le cooperative collaborano piuttosto che realizzano cose a differenza di altre che magari hanno fatto scelta di duplici adesioni e di altre associazioni di categoria quindi un po' volendo premiare la fedeltà e il riconoscimento del grande lavoro fatto da parte delle cooperative aderenti probabilmente conf cooperative Viterbo con il suo consiglio di presidenza deciderà di escludere le cooperative che sono a duplice adesione quindi pur rimettendo diciamo tra virgolette sembrerebbe un discorso poco indicato da parte di un presidente di associazione di categoria però preferiamo più ridurre il numero delle adesioni ma avere una base associativa che sia quella che veramente crede nel sistema ma crede nell'associazione sia a livello territoriale che a livello nazionale anche perché poi la duplice adesione come dire rappresenta anche un motivo di criticità all'interno di qualsiasi organizzazione o si appartiene ad un'organizzazione o si appartiene all'altra poi le organizzazioni tra loro possono collaborare o entrare in conflitto questo è normale ed è legittimo ma chi aderisce ad un'organizzazione è parte di quell'organizzazione è parte di una comunità sostanzialmente e quindi ne condivide quelle che sono le sue linee politico-organizzative come si direbbe in termini teorici quindi l'appartenenza è esclusiva quello che tu dici Daniele è giusto è assolutamente giusto perché poi se tu pensi che l'adesione ad un'associazione di categoria è una scelta non è un obbligo a differenza magari dell'iscrizione in camera di commercio la devo fare per cui la faccio necessariamente quella dell'associazione di categoria è una scelta e purtroppo è anche una scelta che nessuno impone assolutamente una scelta volontaria che però deve essere della quale ognuno di noi come imprenditore come cooperatore deve essere consapevole quindi noi siamo convinti il gruppo dirigente di Conf Cooperative Viterbo è convinto che chi sceglie di stare all'interno di Conf Cooperative Viterbo sia la persona che si riconosce all'interno di questa struttura all'interno del suo programma e all'interno soprattutto degli obiettivi che Conf Cooperative nazionale e di conseguenza Conf Cooperative Viterbo si propone oserei dire e non credo che oso poi particolarmente tanto che non sempre però e non dappertutto la consapevolezza degli amministratori di cooperative è proprio quella di dire faccio una scelta di obiettivi e di appartenenza ecco Conf Viterbo vuole riconoscere alle cooperative che di fatto lo hanno fatto e che quindi di fatto vogliono stare in questa grande famiglia che possono starci e che insieme possono condividere un percorso a differenza di chi magari invece ha inteso condividere il progetto di Conf Cooperative e il progetto di un'altra associazione di categoria che magari è completamente opposta a quello di Conf Cooperative un po' sai tenere il piede in due scarpe no scelgo una cosa siccome sono una persona responsabile sono un imprenditore quindi sono un professionista faccio la mia scelta stabilendo che vado che comunque condivido un percorso che mi porta di fronte ad un bivio obbligato cioè un imprenditore non può decidere che per accontentare l'uno o l'altro rappresentante di categoria possa aderire all'una e all'altra associazione di categoria quindi una scelta forse qualcuno giudicherebbe politicamente non corretta qualcuno giudicherebbe hai presente quando in politica si dice che quella scelta non è stata fatta perché probabilmente toglie consenso ecco io sono convinta invece che premiare chi ha fatto scelte non tolga consenso quindi seppure perderemo qualche cooperativa indubbiamente avremo una base associativa sempre più affiatata e sempre più che condivide degli obiettivi comuni e poi anche una questione di serietà che comporta appunto la giusta dose di severità pure insomma certo le regole ci sono ci sono per tutti ci sono per chi in qualche modo crede condivide sviluppa e per chi ha contribuito e contribuisce tantissimo perché questa unione provinciale è cresciuta così in maniera anomala e a dismisura perché tante delle nostre cooperative hanno creduto in questa unione e quindi il gruppo dirigente di confe cooperativa Eviterbo deve restituire questa parte alle cooperative che hanno creduto in lei in questo modo il 2013 è stato anche un anno di grandi iniziative l'ultima il Natale delle Cooperazioni ecco ci puoi un po' raccontare quelle che sono state le principali attività organizzate proprio in prima persona fra l'altro dall'Unione Provinciale beh indubbiamente il 2013 è stato un anno bellissimo come abbiamo detto per i progetti portati a casa per le nuove cooperative costituite su bandi di progetto per quelle che si sono costituite a prescindere dai bandi di progetto quindi comunque l'associazione ha visto una sua crescita spontanea credo spero mi auguro dovuta proprio al tanto impegno che ci abbiamo messo e il Natale e il Natale della Cooperazione secondo me segna il passo proprio di questo grande impegno mi piacerebbe magari ci facciamo un giorno anche proprio una puntata a parte per dire le sensazioni di questo splendido evento di questa splendida tre giorni di come è nata spontaneamente di come è stata poi gestita della grande partecipazione che c'è stata durante un po' tutta la tre giorni ma in particolare durante la visita del Presidente Nazionale Gardini e del Vice Direttore Fabiola Di Loreto una partecipazione attiva spontanea stupenda una partecipazione che ha visto anche cooperative che non aderiscono a conf cooperative e anche questo è un po' un segnale di riconoscimento quando sul territorio ci sono strutture che pur non aderendo all'associazione partecipano ad un momento di vita comune in qualche modo ti danno un grande segnale un grande riconoscimento del valore dell'associazione e il Natale della cooperazione è stato rileggendolo a posteriori è stato veramente bello è stato spontaneo bello partecipato con cooperative con tante cooperative diverse e soprattutto ha fatto avvicinare ancora di più tante persone che intendono costituire cooperative che intendono trasformare la loro attività in impresa cooperativa mettendosi a sistema con quelle già esistenti all'interno di Conf Viterbo e quindi un gran bel successo e qui veramente sarebbe bellissimo poterla rivivere tutta un 2013 ricco di iniziative quelle che abbiamo detto la web radio non sottovalutiamo che Radio Copp 76 è stato un passaggio importante è il raggiungimento di un obiettivo importante che ci proponevamo da tanto tempo anche questo è nato un po' per scherzo e poi però portato avanti per davvero uno strumento che stiamo monitorando sembra crescere in maniera buona piano piano dovrà crescere anche di più e quindi uno degli obiettivi del 2014 sarà proprio questo il fatto che questa radio possa diventare sempre di più uno strumento a disposizione di tutti quindi è maggiormente ascoltata da tutti maggiormente direi sfruttata da tutti perché Radio Copp 76 può essere uno strumento da sfruttare e quindi un po' guidare tutti affinché sfruttino lo strumento che è stato messo a disposizione un 2014 che ci vedrà beh innanzitutto eh all'inizio ci vedrà internalizzare gli ultimi servizi che rimanevano eh fuori dall'associazione e sono veramente pochi perché ormai abbiamo la fortuna che qui in strada Poggino 76 si fa veramente di tutto e quindi portare all'interno gli unici servizi che sono ancora fuori ora stiamo lavorando sulle modalità più giuste corrette e regolari attraverso le quali fare questo passaggio e ci porterà senz'altro alla realizzazione di una piattaforma di e-commerce che non dovrà essere un e-commerce limitato all'acquisto di prodotti di agroalimentare anzi tutt'altro vorremmo promuovere il nostro territorio e vorremmo promuovere le nostre cooperative non soltanto con la vendita dei prodotti ma attraverso le visite guidate all'interno delle cooperative proprio oggi riflettevamo con i colleghi dicendo che appunto noi abbiamo un patrimonio inestimabile sul territorio di naturale di paesaggio di cultura di beni storici e poi abbiamo tante cose che da un'altra parte non potresti vedere immaginiamoci una visita di inglesi tedeschi russi romani viterbesi lo dico io per prima che va a visitarsi il territorio che va a vedere per esempio la cooperativa delle nocciole nel momento in cui lo stabilimento è pieno di una montagna altissima di nocciole quindi cose che veramente su altri territori probabilmente non è possibile vedere oppure magari va a vedere il molino a pietra che molisce le olive ecco i prossimi progetti il 2014 deve vedere una maggiore integrazione della base sociale in virtù della costituzione di un bel portale turistico di e-commerce che promuove il territorio i prodotti le persone la genuinità la cultura la conoscenza delle cose che noi abbiamo e che non abbiamo mai saputo vendere poi fra l'altro tra le altre iniziative che hanno caratterizzato il 2013 in termini di eventi ricordiamo pure la maratonina di Valerano con la grande partecipazione delle scuole a proposito di maratonina ricordiamo che il 21 gennaio presso il teatro comunale di Valerano a partire dalle ore 18 ci sarà la proiezione con la proiezione di un filmato che racconta appunto quell'evento che ha caratterizzato il giugno valeranese che ha visto Conf Cooperative protagonista proprio di quella giornata con incontri nelle scuole e con la realizzazione di mercatini proprio al centro di Valerano nella piazza principale di Valerano ricordiamo anche la partecipazione all'Umbria Folk Festival e a Verona al convegno dedicato alla dottrina sociale della Chiesa e poi per tornare anche sulle Natale della cooperazione un altro aspetto importante è stato proprio quello di dare la dimostrazione pratica che anche le periferie rappresentano un patrimonio fondamentale della città di Viterbo noi ci concentriamo soprattutto sul centro storico ed è giustissimo perché il centro storico rappresenta un gioiellino rappresenta un attrattore turistico però non ci dimentichiamo che Viterbo è essenzialmente la sua periferia perché a fronte di 60.000 abitanti soltanto 7-10.000 vivono nel centro storico e tutto il resto sta al di fuori delle mura è una realtà spesso dimenticata invece la realizzazione dei mercatini proprio nella periferia viterbese e una delle periferie fra l'altro più dimenticate come è appunto quella del Poggino dalla dimostrazione che se si vuole si può organizzare si possono organizzare cose belle anche all'esterno delle mura anche nelle periferie e le periferie lo ricordiamo ne hanno estremo bisogno e non solo si possono organizzare eventi partecipati perché poi il Natale della Cooperazione non è stato soltanto il convegno mattutino che poi non era nemmeno un convegno ma era una giornata dedicata esclusivamente alle scuole con la partecipazione di Gardini dell'Università di Bolzano di Conf Cooperative Bolzano questa dimostrazione che Conf Cooperative Viterbo è una realtà capace di intrecciare anche con le sue consorelle diciamo così di altre regioni ma è stato anche un evento che ha intrecciato il momento diciamo formativo il momento divulgativo con il momento artistico c'è stato lo spettacolo del viaggio con la cooperativa Agli Aquiloni e con la partecipazione di Jupiter c'è stato anche la cooperativa Teatro Stabile di Gian Maria Cervo che ha portato Merry Christmas un altro evento molto bello e molto interessante come gran parte degli eventi poi di Gian Maria di Gian Maria insomma un comune amico e non a caso poi fra l'altro la sua cooperativa è una persona veramente che merita un grande riconoscimento per il suo profilo artistico ma soprattutto per la semplicità della persona Daniele adesso raccontava e io ripercorrevo momenti toccanti che forse non tutti hanno potuto vedere e toccare con mano lo spettacolo il viaggio della cooperativa Agli Aquiloni i ragazzi speciali che veramente hanno reso speciali anche noi ci sono entrati dentro ci hanno coinvolto ci veramente sono stati dei passaggi stupendi come la rappresentazione teatrale con degli attori meravigliosi delle cose che veramente se ci ripensi a distanza di un po' di tempo pensi veramente abbiamo fatto una cosa bella stupenda e soprattutto come te dicevi l'abbiamo fatta in un territorio dimenticato un territorio del quale si è sentito molto parlare durante il periodo di campagna elettorale da ognuna delle forze politiche che si è candidata a gestire ed amministrare il nostro comune è un territorio che è caduto nuovamente nel dimenticatoio subito dopo il rinnovo del comune non perché prima fosse in qualche modo ricordato è assolutamente il mio non è un discorso di colore di amministrazione ma è semplicemente che una zona industriale come quella del Poggino non può essere abbandonata a se stessa in questo modo se facciamo un po' memoria storica ci ricordiamo durante il periodo di campagna elettorale ogni candidato si è fatto fotografare sul vialone il cosiddetto famoso vialone del Poggino e dietro di lui c'era questo deserto che doveva essere riscoperto che doveva essere rivalutato e che poi nuovamente è tornato ad essere abbandonato siccome noi ci viviamo praticamente al Poggino perché Confoperativa Viterbo è aperta dalla mattina alla sera per cinque giorni settimane una volta anche sei abbiamo voluto dare un segnale che se veramente si volesse si potrebbero fare delle cose anche qua giù nella parte degli abbandonati giustissimo far rivivere il centro storico e proprio in occasione delle festività per esempio mi è capitato di entrare nel centro storico dove veramente si comincia a vedere un po' lo stato di abbandono nel senso che le persone stanno abbandonando l'interno delle mura e vanno verso l'esterno quindi è chiaro che questo gioiellino che noi abbiamo vada rivitalizzato in qualche modo ma è chiaro lo stesso che le periferie dove in qualche modo si è fatta tanta campagna tanta pubblicità non possano non debbano e non vogliamo siano abbandonate così a se stesse e quindi l'iniziativa è stata fatta qua per scelta credo sono convinta che abbiamo fatto una buona scelta probabilmente all'interno del centro storico avremmo avuto una maggiore visibilità la nostra associazione non è quella che chiede visibilità gratuita è quella che lavora e la sua visibilità se la conquista nei fatti e nelle cose e quindi il fatto di essere stati al poggino è per noi il fiore all'occhiello e poi è un'organizzazione che non chiede visibilità ma cerca di dare visibilità alle realtà che fanno parte appunto di Conf Cooperative e al territorio dove Conf Cooperative Viterbo agisce ultima cosa Dulcis in fondo 2013 è stato anche l'anno del palazzo della cooperazione no? finalmente Conf Cooperative una fra l'altro se non la sola organizzazione professionale diciamo del Viterbese ha preso in mano il luogo dove vive dove lavora dove si trovano i suoi uffici e ne è entrata in possesso certo in possesso in effetti lo eravamo anche da prima diciamo che il 2013 ci ha messo nella condizione avendo ormai strutturato l'interno degli uffici in maniera veramente rispondente alle nostre esigenze di ristrutturare il tutto nonostante siamo al Poggino relativamente da pochi anni però proprio perché il Poggino dove era Conf Cooperative? Conf Cooperative per tanti anni ha abitato il centro storico e poi come tutti gli abitanti del centro storico anche lei è esodata perché per la difficoltà di parcheggi per la difficoltà di raggiungerci eravamo inizialmente siamo stati per tanti anni in via Sacchi una traversa di Corso Italia stupendo ma non abbordabile per un'associazione di categoria soprattutto non avevamo l'abbattimento delle barriere architettoniche quindi poi una serie di esigenze di parcheggi di spazi di barriere ci ha costretti ad abbandonare il centro e siamo andati nella periferia all'inizio siamo andati verso la Cassia la Cassia Sud ci siamo appoggiati per un paio d'anni lì e poi siamo finalmente approdati al famoso Poggino abbandonato da Dio e dagli uomini dove però si vede benissimo a Montefiascone vero vero nelle giornate potrebbe diventare un immenso bel vedere verso nelle belle giornate vediamo il cupolone quindi per chi ci ascolta da Montefiascone vi teniamo sott'occhio anche là nonostante la nebbia nonostante la nebbia però quest'anno abbiamo reso questa struttura effettivamente rispondente alle nostre esigenze infatti c'è ancora uno spazio che stiamo colmando perché nei prossimi mesi vi renderemo partecipi di un'ulteriore attivazione di servizio che credo poter già anticipare apriremo un punto Enel affinché sempre nel famoso Poggino abbandonato dove però noi abbiamo i nostri locali con ampio parcheggio dove non abbiamo abbattimento di barriere si possano effettuare anche tutte quelle operazioni che possono essere svolte attraverso un punto Enel ma credo che su questo dovremmo fermarci un attimo a riflettere faremo anche questo è un altro dei progetti 2014 però se mi fai dire tutto oggi poi mi finisco la puntata così e non lascio la suspense assolutamente allora insomma salutiamo a questo punto Bruna Rossetti lasciando diciamo alle prossime puntate le nuove scoperte delle migliaia di attività che quotidianamente fa Conf Cooperative e ve lo possiamo assicurare perché poi lo studio di registrazione della radio sta proprio di fronte alla stanza del presidente quindi sono anche io sottolineato raggio c'è un via vai diciamo noi diciamo che noi ci sentiamo un po' agli occhi addosso ma sono occhi sempre benevoli e questo ve lo possiamo assicurare perché poi fra l'altro tu hai ricordato Radio Coop la nascita di Radio Coop che è stato uno dei passaggi del 2013 un passaggio di cui noi che ci lavoriamo ti siamo gradi perché tu sei stata la prima a crederci e la prima a portare avanti questo progetto anche quando sembravano sorgere delle difficoltà che poi sono state ampiamente superate e quindi sei come ti posso dire non solo la madrina di questa radio ma anche la vera e propria artefice questo è giusto è giusto riconoscerlo perché ci hai creduto fino in fondo e hai realizzato hai dato vita ad una realtà che è difficilmente riscontrabile cioè una realtà che parla ai propri scritti per poi parlare a tutto il territorio sostanzialmente questo è l'obiettivo l'obiettivo della della radio e insomma una radio che ha trovato in te un punto di riferimento insomma fondamentale e speriamo che sia anche io credo però Daniele sai questo era un passaggio obbligato che questa struttura doveva fare dobbiamo ringraziare Conf Cooperative Nazionale che ci ha effettivamente creduto però eravamo finalmente nelle condizioni di avere dietro una struttura che potesse e soprattutto dovesse trasmettere all'esterno che cosa si può fare con la cooperazione quella vera quella sana quella di un territorio integro e quella che vuole mantenersi tale e che vuole avere quelle cooperative che conosce sane e che fanno attività anche quelle fra due o tre ragazzi che si mettono in testa un progetto che te sembra strampalato e che poi invece funziona quindi siccome adesso questa struttura c'è tutta e la possibilità di comunicare con un mezzo diretto che non debba essere mal filtrato o modellato su determinate esigenze ce l'avevamo tutti a questo punto se questo strumento diventa beneficio di tutta l'associazione di tutte quelle strutture sane quelle cooperative sane che vogliono comunicare chi sono e perché sono così allora benvenga Radio Coppe 76 e benvenga diciamo Bruna Rossetti ecco questo è fondamentale che poi stavo dicendo prima garantisce anche una libertà nella costruzione del palinsesto e nella gestione delle trasmissioni che è giusto dirlo non è facile riscontrare perché poi il mondo dell'informazione è anche molto particolare è un mondo che in molti casi è diventato un po' il mondo che attacca l'asino dove vuole il padrone punto e qui come dire la chiudiamo e la libertà di informazione e la libertà di espressione di chi fa informazione a volte va a farsi benedire comunque con Bruna ci siamo proprio conosciuti sui temi dell'informazione ne abbiamo tratto non proprio quella libera come quella di Radio Coppa 76 però ne abbiamo tratto grande insegnamento e ci siamo strutturati e quindi l'obiettivo nostro è proprio fare una cosa completamente diversa ma soprattutto al servizio del territorio e al servizio delle cooperative e ci riusciremo e ci stiamo riuscendo assolutamente guarda e con questo vi salutiamo ringraziamo Bruna Rossetti che troveremo poi sempre con noi sempre con Radio Coppa 76 la prossima settimana salutiamo tutti i nostri radioascoltatori dando gli appuntamento a domani sempre su Radio Coppa 76 la radio di Conf Cooperative Viterbo ciao 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 Grazie a tutti